Un saluto a Dominique Volton, direttore di ricerca al CNRS, studioso dei mass media e del giornalismo. La prima domanda è il dramma avvenuto nella redazione di Charlie Hebdo farà cambiare qualcosa nel futuro. Credo che ci obbligherà a prendere sul serio quella che è stata considerata una frangia della libertà di informazione, cioè la stampa più radicale, la più satirica, la più spiazzante, che avevamo l'abitudine di considerare come marginale. Come accade spesso in democrazia, basta vedere quante volte Charlie Hebdo sia stata trascinata davanti alla giustizia per le sue prese di posizione e i suoi disegni. Credo che tutto ciò sia molto importante, perché non si ha libertà di stampa, non si ha libertà di espressione, senza questa stampa spesso considerata troppo osè, di cattivo gusto, eppure portatrice della più estrema capacità di espressione critica. Intellettuali, giornalisti assassinati per le loro idee non sono un fatto nuovo nel mondo, ma finora sarebbe stato inimmaginabile in Francia. Ci sarà un prima e un dopo il 7 gennaio? Sì, ci sarà un prima e un dopo, la mobilitazione è d'altra parte molto forte, tra le persone assassinate vi erano alcune molto popolari, molto conosciute, e questo prende rilievo. C'è un filo rosso nella storia politica e culturale francese, e aggiungo che se in occasione di questa tragedia fossimo capaci di puntare i riflettori anche su altre tragedie umane, come ad esempio i milioni di migranti che arrivano sulle coste europee e se non annegano, penso che troveremo un legame tra la libertà di informazione, inclusa quella polemica e quella scomoda, e la libertà di informazione, nel senso in cui la intende l'Europa, che la include tra i valori fondamentali. Per i media cambierà qualcosa? Dal punto di vista della stampa, questo mette in discussione il pensiero che a volte si impone con faciloneria, secondo cui il fatto di essere radicali metta al riparo dal rischio di esprimere razzismo e odio. Non è il solo Islam a essere in causa, ma è la questione dell'altro. Siamo rispettosi degli altri o consideriamo gli altri come un pericolo? E se pensiamo che l'altro sia un pericolo, allora cominciano le generalizzazioni. Se vogliamo essere grati agli Stati Uniti che hanno manifestato la loro solidarietà, allora dovremmo dirgli, non abbiamo lezioni da darvi, ma allo stesso proviamo ad evitare di ripetere questa specie di isteria anti-islamica e anti-musulmana, questo odio crescente di catastrofe in catastrofe, come negli Stati Uniti dall'11 settembre in poi. Abbiamo assistito ad una reazione memorabile nelle piazze, sulle reti sociali. Questo cosa dice la società francese? Forse è una lezione positiva, non finiamo mai di dire che i francesi e gli europei sarebbero anomici, pronti a soccombere davanti ad ogni estremismo, incapaci di credere ancora in qualcosa. Non è così e la Francia, da questo punto di vista, ha ora l'occasione per realizzare uno dei suoi caratteri fondamentali, quello di essere un paese multiculturale, dove qua abitano diverse religioni e diverse culture. C'è una maturità politica superiore, che non si può negare, questo potrà durare poco, ma è il caso di sottolinearlo adesso, prima che tutto cambi. Ci sarà un uso politico di questo attentato e quali sono i rischi? Non credo, se si tentasse un uso politico ci sarebbe un effetto boomerang, perché quello che accade col minuto di silenzio, quello che accadrà sabato e domenica con la grande manifestazione e tutto quello che verrà detto finirebbe per diventare controproducente. Tutto questo trasmette quantomeno cose di una profonda emozione. Très bien, Dominique Volton, je rappelle que vous êtes specialiste des médias, de la comunicación politica. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci, bon courage à Aero News. Merci. Merci.